buon lunedì pomeriggio popolo rossonero popolo del bandito in vigilia vigilia di partita importante importantissima perché ovviamente restare a zero punti dopo due partite diventerebbe un problema è anche vero che affrontiamo una squadra molto molto forte sicuramente una squadra che non per niente ha pareggiato l'ultimo weekend in casa del Bayern Monaco quindi una squadra pericolosa e ma noi dovremmo dimostrare di che questi passi avanti che stiamo facendo ci portano ad essere protagonisti anche anche contro una squadra di livello praticamente top in Europa quindi siamo tutti in trepidante attesa di capire quello che riusciremo a fare domani adesso andiamo un po' a vedere le ultime da Milanello poi in attesa di stasera alle 7 parlerà Fonseca cercheremo di capire un po' di più Fonseca e Leao alle 19 scusate non so se ho detto 19 o 17 alle 19 Fonseca e Leao conferenza stampa pre champions un like al video per il nostro Milan la campanella per le notifiche l'iscrizione al canale è gratuito e un grazie a tutti gli abbonati allora notizie di campo prima perché stamattina c'è stata la rifinitura con Morata Calabria e Okafor in gruppo questo è molto importante è molto importante perché ora noi ci stiamo focalizzando sulla squadra che giustamente ha vinto il derby poi ha vinto con Lecce era praticamente la stessa squadra quindi questo 4-2-4 però non è che potremmo giocare sempre così anche perché obiettivamente siamo un po' corti sia centro campo che in attacco diciamo nel ruolo delle due punte centrali mentre siamo belli coperti sugli esterni nel ruolo delle due punte centrali si giocando tutte e due siamo un po' cortini e questo sicuramente a gennaio su questo a gennaio andranno posti assolutamente rimedio andrà posto rimedio e come lo affronteremo io credo di aver capito Fonseca cerca di avere una identità tattica ben definita quindi al di là di quelli che possono essere magari due o tre cambi ipotizzo vado a ipotizzare io potrebbe giocare Calabria al posto di Emerson potrebbe potrebbe giocare Pavlovich magari al posto di Gabbia potrebbe non credo che giochi al posto di Tomori per caratteristiche credo piuttosto che giochi al posto di Gabbia se dovesse giocare Pavlovich magari tiene una punta magari per entrare dopo e parte con l'off to cheek vedete però che Fofana e Renders sono sempre in quest'anno il problema da qua a gennaio sarà quello secondo me sarà quello di non poter rinunciare a due giocatori come Fofana e Renders veramente è questa la cosa che mi spaventa di più ovviamente di arrivare a gennaio perché poi mi auguro che a gennaio si ponga rimedio con un bel centrocampista che possa dare però questi due giocatori in questo momento sono veramente importantissimi e sono contento che vabbè su Renders lo sapete io l'ho sempre detto io credo che Renders questa stagione farà una stagione che ahimè lo metterà in luce rispetto a alle più grandi squadre europee io credo che a fine di questa stagione Tijani Renders sarà cercato dalle migliori squadre dalle squadre top europee ma parlo proprio di le squadre più forti di Manchester City Liverpool roba del genere ovviamente mi auguro che avremo la forza di resistere che lui magari stia bene qui voglio restare con noi però credo che andiamo su quel livello e quindi diventa un giocatore che sostituirlo è un problema ma sono molto più contento ancora perché tanto di Tijani lo sapevo l'ho sempre detto di Fofana perché Fofana io col Venezia non capivo sinceramente tutto questo nasino all'insù tutto questo ma Fofana non lo capivo perché a me invece aveva dato l'impressione pur non essendo ancora evidentemente al top perché non poteva esserlo perché non ha fatto una preparazione adeguata per essere già al top invece a me aveva dato dei segnali positivi cioè avevo visto la squadra di girare in una maniera diversa con Fofana ne ho avuto la conferma al derby dove secondo me ha giocato una grandissima partita e ne ho avuto ulteriore conferma con il Lecce vi assicuro che vedere Fofana dal vivo poi dallo stadio dove si hanno magari i momenti anche quelli in cui la palla cioè in televisione abbiamo i momenti la palla è sempre quella inquadrata no e quindi uno meno meno capibile l'importanza di un giocatore all'interno della squadra perché magari non se ne capisce il lavoro fatto in tutto l'arco della partita mentre la visuale da sopra dà la possibilità di vedere i movimenti di chiusure e il modo con cui comanda il centrocampo tra l'altro lui ha cambiato un po' le sue caratteristiche venendo qui ma si sta adattando perfettamente e poi ho visto un giocatore molto coinvolto anche coi compagni cioè anche dal lato proprio di gruppo deve essere entrato nel gruppo e sta facendo dei grossissimi passi avanti per cui il nostro problema da qui a gennaio sarà quello di ai 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 cosa faccio se non ci sono Fofanai Renders mentre Loftus abbiamo visto che giocano in una posizione in cui ci può giocare Morata ci può giocare Pulisic con Ciuquezza a destra e ci può giocare Okafor cioè diciamo lì il ruolo è più più gestibile su Fofanai Renders stanno prendendo proprio quella consapevolezza che è difficile 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 e speriamo che non voglio dire niente sul lato fisico infortuni perché non voglio vi invito solo a riflettere ma no non lo faccio neanche perché non voglio essere non voglio niente non parlo di questo via avanti così che va bene e quindi alle 19 leao e Fonseca per capire un po' magari avremo qualche rivelazione Xabi Alonso ha sentito ha dichiarato che il Milan è pericoloso solo e cioè non solo ha detto che siamo una squadra molto pericolosa in contropiede questo è vero mi auguro che lo sfrutteremo bene domani però forse ha una visione ancora un po' limitata di quello che è il Milan perché io credo che l'ambizione di Fonseca sia quella di essere molto più protagonista anche non solo in contropiede ma proprio con un atteggiamento di squadra che ti viene a prendere di squadra che non ha paura però ecco non mi dispiacerebbe se domani lasciamo fare a loro un po' la partita e noi poi potremo sfruttare gli spazi con leao con ebra con teo anche partendo da dietro e con il fantastico pulisic straordinario chiudo il video con due compleanni di due fantastici ex giocatori del Milan uno me lo ricordo io e magari qualcuno di voi non ha avuto la fortuna di vederlo giocare comunque un centrocampista meraviglioso che per certi versi mi ricorda anzi io mi auguro che lui ricordi Rijkaard e parlo di Tijani e Rijkaard era eleganza era ecco secondo me Tijani crescendo 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 può arrivare a quei livelli lì e stiamo parlando di livelli eccelsi quindi tanti auguri a Rijkaard vecchio cuore rosso nero e insomma ci ha regalato una Champions League con suo gol scusate se è poco e poi Oliviero bomber vero ragazzi Oliviero è un milanista di titanio è un cuore rosso nero meraviglioso che anche dagli Stati Uniti non perde occasione per rimarcare ciò che siamo e ciò che vorrei passasse tra i tifosi del Milan ecco questo è il Milan questo il Milan questo è quello che lascia dentro il Milan anche a giocatori come Olivier Giroud che hanno girato tante squadre ma che quando parlano di Milan si illuminano quando parlano dei loro compagni si illuminano e continuano a illuminarsi come se sono e se fossero dei anzi lo sono dei veri cuori rosso neri e questo perché è il Milan semplicemente forza Milan sempre e comunque e non perdiamoci la conferenza stampa alle 7 di Fonseca Leao poi faremo magari un rapido riassunto forza Milan sempre e comunque domani ragazzi molto 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 importante